Attraverso le banche dati, ma soprattutto con la conoscenza del territorio, i funzionari dell'ufficio controlli della direzione salernitana dell'Agenzia delle Entrate hanno passato al setaccio numerosi organismi associativi operanti nella provincia di Salerno, scoprendo ricavi occultati ma anche evasori totali. Le associazioni si dichiaravano enti no profit, ma erano in realtà bar o ristoranti, attività commerciali a tutti gli effetti, che usufruivano indebitamente delle agevolazioni fiscali previste per gli organismi senza scopo di lucro. Dietro la definizione di no profit, infatti, spesso si celano soggetti dalle caratteristiche molto simili, dalle hollus ai circoli culturali, sportivi e ricreativi, alle associazioni di volontariato. L'operazione, oltre al recupero di importanti cifre e attassazione, svolge anche la considerevole funzione di deterrenza e di presidio contro un fenomeno molto diffuso, che finisce per danneggiare le imprese che operano nel rispetto delle regole. Le posizioni fiscali esaminate in provincia di Salerno per il triennio 2008-2011 hanno consentito di scoprire otto presunte associazioni, quattro delle quali evadevano completamente il fisco, recuperati a tassazione circa 800 mila euro di ricavi non dichiarati.